Il Palermo sia la cultura dell'accoglienza. Come sindaco, di tutto doveroso, assume una posizione perché non posso consentire che vengono violati i diritti umani di persone, perché i migranti sono persone. Questo costruisce un insulto alla cultura dell'accoglienza di Palermo. Peraltro, devo dire che si tratta di un provvedimento che per le norme di competenza comunale trasformano in illegali quelli che sono legali. Stiamo parlando di persone che hanno regolari permessi di soggiorno, non di clandestini, ma di persone che hanno regolari permessi di soggiorno perché hanno un contratto di lavoro. Stiamo parlando di minori, se ne hanno accompagnati, che appena compiono 18 anni non hanno più la protezione umanitaria. Si è abolito con questo provvedimento la protezione umanitaria e quindi sono avuti meno tutti quei permessi di soggiorno che si fondavano sulla protezione umanitaria. Ancora di più, è venuta meno la possibilità, perché aveva il permesso di soggiorno, perché aveva un contratto di lavoro regolare per il quale pagava le tasse e i contributi, se viene licenziato improvvisamente non può più chiedere la residenza da grafica. Non poter chiedere la residenza da grafica significa essere escursi dalla possibilità di usufruire dei servizi sociali che sono fondamentali i diritti riconosciti da ogni persona umana. Questo decreto non combatte l'illegalità, trasforma in illegali quelli che erano legali. Firenze, Parma e Napoli stanno aderendo alla sua presa di posizione, ma Salvini non ci sta? Salvini può starci o non starci, lui faccia il ministro, faccia il sindaco, lui vive la Costituzione e io cerco di rispettarla. Invece come pensa che gli impiegati comunali prenderanno questa sua direttiva? È un ordine regolamente firmata e protocollata al quale devono attenersi, in effetto di che risponderanno dal fatto che non si attengono alle indicazioni date responsabilmente dal sindaco, il quale si assume lui la responsabilità e sono loro ogni responsabilità.